In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Maria Sede Sapientiae, ora Pronobis. L'argomento che affronto oggi, carissimi fedeli, è l'ostensorio. Questa parola ostensorio deriva dal latino ostensorium, cioè oggetto che serve per mostrare. Infatti il verbo ostendere, in latino, significa appunto mostrare. Vi ricorderete senz'altro il versetto ostende nobis domine misericordiam tuam, cioè mostraci, Signore, la tua misericordia. In questo caso lo stensorio serve a mostrare ai fedeli l'ostia consacrata, l'ostia magna consacrata, cioè il corpo di Cristo, per l'adorazione, a questo scopo preciso, quello di permettere l'adorazione della Santissima Eucarestia. Ecco qui un sacerdote che, inginocchiato ai piedi dell'altare, sta facendo le preghiere preliminari alla benedizione eucaristica. È vestito con il piviale, questo abito è il piviale, cioè abito per la pioggia, perché si usava e si dovrebbe usare durante le processioni esterne e deriva dall'antica pianeta. L'antica pianeta, cioè quella dei primi secoli, era lunga fino ai piedi, senza apertura davanti e con un cappuccio, cioè si infilava dal collo e con cappuccio. L'antica pianeta ebbe due esiti, uno il piviale. Il cappuccio è stato trasformato in questa sorta di mantellina, ha mantenuto la lunghezza fino ai piedi, però, a differenza dell'antica pianeta, è aperto sul davanti e si indossa come un mantello. Bene, allora il Santissimo Sacramento era chiuso all'interno di questo ostensorio, il tipo dello stensorio è quello più diffuso che conosciamo tutti quanti noi, cioè lo stensorio a raggera, ma vedremo che non è l'unico tipo che si usa nella Chiesa. È appoggiato sopra un tronetto, come vedete, il quale a sua volta è appoggiato direttamente sul tabernacolo, un tabernacolo che finisce in piano, perciò è predisposto proprio a questo tipo di sistemazione. Lo stesso sacerdote poi benedice i fedeli con il Santissimo Sacramento. indossa non soltanto il piviale, aperto sul davanti, come vi dicevo prima, ma anche il velo omerale, che ha la forma che può avere una stola di quelle che usano le donne in certi ricevimenti o feste particolari. è il velo omerale, che significa che copre gli omeri, cioè le spalle. A questo punto, carissimi fedeli, noi possiamo dire che l'antica liturgia prevede diversi veli, è caratteristica per questo, mentre la nuova liturgia postconciliare li ha completamente tolti. ha mantenuto questo, ma chi fa più le benedizioni eucaristiche all'interno di una chiesa ormai diventata modernista? Comunque sia, dicevo, ci sono diversi veli. Abbiamo visto il velo copri calice, abbiamo visto il velo che copre il tabernacolo, cioè il conopeo, abbiamo visto il velo copripisside, ed ora il velo omerale che copre le spalle. Se vogliamo, anche la lingua latina in se stessa, essendo non immediatamente comprensibile, è una sorta di velo sul mistero dell'eucarestia. ecco un altro tipo di ostensorio. Questo tipo viene chiamato a campana. In effetti c'è una campana di vetro che protegge la Santissima Eucarestia. Il coperchio è formato dalla stessa campana che è estraibile, da questa cupoletta, e da un'immagine che può essere una piccola croce. In questo caso è il Redentore. Ecco, c'è la sfera, poi il Redentore. Per quanto riguarda la parte bassa, è fatto come si fanno i calici, come si fanno le pissidi, cioè un buon piede che possa stabilizzare tutto l'oggetto, e un nodo, vedete in questo caso ben lavorato, ma è sempre pure un nodo. E intravedete l'altro elemento che c'è in tutti gli ostensori, cioè la lunetta. Andiamo avanti. In questo caso abbiamo uno stensorio a campana, antico, e veramente questo è un oggetto d'arte, tutto in argento, e ha sulla sommità una croce. Anche in questo ostensorio a campana si vede bene la lunetta, che serve a che cosa? Serve a tenere ferma in posizione verticale l'ostia magna consacrata, perché tutti la possano vedere. Ancora un altro ostensorio a campana, questa volta molto lavorato, e abbiamo, e anche in oro, tutto in oro, è un oggetto d'arte che è conservato in un museo, e qui abbiamo l'impressione di essere in una specie di piccola chiesa, piccolo altare, ecco, ci sono delle guglie, infatti, vediamo delle guglie, mi pare che possa, ecco, poi alla fine, sopra in una sommità, una croce. Nella parte mediana, la campana, con la lunetta, per reggere l'ostia consacrata, nella parte superiore, c'è Gesù redentore, dentro a una, si chiama mandorla, quando non è proprio circolare, la raggera, si chiama mandorla, e poi, nelle parti laterali, come se fosse una pala d'altare, ecco, mi dà questa impressione, due santi, in questo caso, mi pare di distinguere, Maria Santissima, e da questa parte, potrebbe essere, il santo protettore, della chiesa stessa. ecco una lunetta, vi dicevo, che serve per reggere, tenere ferma, in senso verticale, l'ostia consacrata. Ha una parte davanti, che è quella che noi vediamo, in questo caso lavorata, sembrano due angeli, che reggono, appunto, l'ostia. Abbiamo una parte inferiore, fatta in questo modo, che viene fatta scorrere, all'interno di una guida, che c'è dentro all'ostensorio, e quindi, viene fermata, nella guida dello stensorio, quindi la lunetta è estraibile, poi va infilata, nella guida dello stensorio, dietro questa parte visibile, c'è un altro elemento, in metallo, che si può avvicinare, o allontanare, da questa parte visibile, avvicinandola, l'ostia viene, in qualche modo, fermata, ecco, e allontanando, la parte che noi non vediamo, allontanandola, si può estrarre l'ostia, e riporla, nel tabernacolo, o viceversa, dal tabernacolo, fissarla, nella lunetta, che verrà poi, infilata, nello stensorio, non so se sono stato chiaro, ma questo è, il meccanismo, questa è una teca, naturalmente, una volta estratta, l'ostia consacrata, dallo stensorio, viene messa, in una teca, questa è una teca, di metallo, penso che sia argento, con un coperchio, è una scatola, praticamente, viene messa, nella teca, e la teca, nel tabernacolo, questa è, molto antica, è un oggetto d'arte, è tutto lavorato, vediamo, nel coperchio, il nome di Gesù, è al contrario, IHS, la croce, che sormonta, la H, e il sole, intorno, al nome di Gesù, con questa immagine, abbiamo terminato, sia lodato, Gesù Cristo, e avanti, con Maria.